Allora, tanto per cambiare, qua, chi lavora sono io e quell'altro, il Doesn't Matter, è sempre là che gioca, eh? Cosa scommettiamo che sta giocando ancora ad Animal Crossing? Daniele! Daniele! Ecco, stai ancora giocando ad Animal Crossing, vero? E mi aglutrando troppo, perché è un problema. No, perché qua, chi lavora, sono io per preparare il programma. Guarda lui cosa fa. Se tu fossi uno dei protagonisti di questo gioco, io sarei il tuo Dio. Lui, il mio Dio. Va bene. Dai, dai, andiamo a lavorare, va, andiamo a lavorare.